Il Partito Democratico di Vercelli insieme al Partito Democratico regionale attiva questa campagna per dire no al Fondo Immobiliare Sanitario, ossia il FIS, perché la vendita dei beni immobiliari delle nostre ASL a questo Fondo Immobiliare Sanitario per noi è negativo e l'ennesima scelta della Giunta Cota che sicuramente non è a favore dei cittadini, con una scelta del genere porta sicuramente a delle ripercussioni negative sul territorio, perché passare i beni immobili dell'ASL a questo Fondo significa vendere e fare cassa sulle strutture ospedaliere e caricare poi le ASL in un secondo momento di una quota che annualmente deve essere pagata quale affitto che l'ASL deve pagare in un secondo momento per questi beni direttamente al Fondo Immobiliare. Quindi questo è un primo aspetto che noi vediamo negativo, non riteniamo corretto per far cassa subito, caricare poi di spese successive le ASL, di spese che poi saranno permanenti tutti gli anni. Inoltre la presenza in questo Fondo anche di componenti private fa sì che diventi difficile da parte poi di questo Fondo acquisire dei finanziamenti nazionali che sono deputati a strutture pubbliche, quindi essendo il FIS deputato anche alla manutenzione di queste strutture immobiliari, la nostra preoccupazione è anche prima di tutto il mantenimento dell'efficienza delle strutture e poi la mancanza di accesso ai finanziamenti pubblici. Quindi noi vediamo una scelta di questo genere, cioè la vendita dei beni immobiliari, un aspetto molto negativo per le nostre ASL, per di più a Vercelli la situazione è ancora più pesante perché a Vercelli abbiamo da parte dell'ASL un patrimonio immobiliare notevole che oltre agli ospedali, oltre ai poliambulatori, oltre a tutte le sedi dei locali, gli uffici dei locali deputati alle attività, abbiamo tutti i terreni, cascine, quindi tutti i palazzi, tutte le strutture che sono state donate nel corso dei secoli da parte di benefattori, quindi per l'ennesima volta ci battiamo affinché questi beni rimangano di proprietà del nostro territorio ed eventualmente l'alienazione sia a scapito, sia a favore della nostra ASL e non sia invece a scapito della nostra ASL nel senso che finisca in un fondo regionale e senza ricadute sul territorio perché sarebbe andare contro quella che è stata la volontà dei benefattori, per cui se questo problema viene sentito a livello regionale, infatti la nostra campagna è una campagna regionale, per i vercellesi è ancora più grave. Allora proprio per questo facciamo una raccolta firme, una petizione per dire no a questa scelta malsana della Giunta Cota e invitiamo i cittadini a presentarsi presso la nostra sede di via Giovanità in orario d'ufficio oppure direttamente online sul sito specifico che permette di accedere direttamente che è www.sanitabenacomune.it e direttamente online si può sottoscrivere la petizione oppure e direttamente nei nostri banchetti che faremo in città da venerdì prossimo al mercato e tutti i fine settimana in centro a Vercelli e presso tutti i nostri circoli territoriali. Quindi invitiamo i cittadini a firmare affinché i beni immobiliari della nostra ASL rimangono di proprietà dell'ASL stessa onde evitare ripercussioni sicuramente negative per il futuro dei vercellesi.